Ecco qua il Pustino Patti e con lui c'è il suo gatto Jess La mattina presto, quando spunta il giorno, con la posta in giro se ne va Buonasera a tutti e bentrovati, eccomi qui finalmente, il Pustino di Disturbiamo Sono stato molto impegnato purtroppo con tantissimi sms che stanno arrivando al 347 3050 851 Poi sono stato anche in convalescenza perché purtroppo grazie a Guerra mi ha rotto un braccio Visto che comunque stavo lavorando da un'altra parte, ma eccomi qui Iniziamo subito a leggere quelli che sono i primi sms che sono davvero tantissimi Roberta da Macchia Godena ci lascia un messaggio, vuole ascoltare Gabri prossimamente, eventualmente E dedicarla alla sua figlia che compie gli anni e fa 15-16 anni Ci scrive ancora Fabio da Cabonpasso che saluta a tutti Francesco da Vicenza che ci ha visto comunque sul web Anzi vi ricordo potete seguirci tranquillamente su www.teleregionemolise.it E inviare sms al 347 3050 851 Mi raccomando, una cosa importantissima, indicate sempre il nome e la località da dove scrivete Così io posso comunque ringraziare tutti perché siete comunque tantissimi Salutiamo Gildo che comunque anche lui ci ha scritto da un paese che purtroppo non ha messo comunque l'entità del paese Ancora Luciana da Macchia Godena che ci ha scritto e manda tutti i saluti e ringrazio e complimenti per la trasmissione Da Venafro invece arriva un saluto particolare, arriva un saluto esclusivamente per Dino dalla signora Roberta E ancora una volta e finiamo per questa puntata ma sicuramente ci rivedremo Pasquale da Isernia fa i complimenti a Grazia e spera di essere invitato in trasmissione Allora mi raccomando, scrivete, scrivete, scrivete sms al 347 3050 851 E seguiteci in streaming a www.teleregionemolise.it Ciao, un saluto e mi raccomando a tutti, scrivete, grazie a tutti La mattina presto, quando spunta il giorno, con la posta in giro se ne va